Musica Momenti suggestivi anche con la mascherina agli allievi, marescialli del nono corso, giurano fedeltà alla Repubblica, alla presenza del sottosegretario, alla difesa Giulio Calvisi, del comandante generale dell'arma Giovanni Mistri e di tutte le autorità regionali, dal presidente Eugenio Gianni al sindaco Dario Nardella con il prefetto Laura Lega. È il primo giuramento post-covid alla scuola Felice Maritano di cui oggi ricorre l'anniversario dalla morte. La città dei carabinieri nella città di Firenze, niente parenti, niente festa come avviene di solito, formato minore sotto il profilo formale, ma questo rimane un giorno straordinario per voi, dice il comandante Mistri, per ciascuno ma anche per la scuola allievi, marescialli di Firenze che compie proprio 100 anni nel 2020. Proprio oggi invece 100 anni fa nacque il vicebrigadiere salvo d'acquisto, medaglia d'oro e simbolo di tutti i carabinieri. Tante ricorrenze dunque da ricordare, onore e fedeltà allo Stato, il cui nemico numero uno adesso è però invisibile, ma per questo non meno assassino, il virus.